È stata quella di Cesena una grande vittoria, non era facile, però quello che conta come sempre è il presente, perché quella ormai è una parità che fa parte del passato, dove sicuramente abbiamo fatto delle ottime cose e ci sono delle cose da migliorare. Una cosa la dico, ho letto degli attacchi duri, anche personali, verso la difesa, quindi io vi ho sempre detto che poi per carità ognuno è libero di scrivere quello che vuole e di pensarlo come vuole, quindi io dico anche io quello che penso e ve lo dico sempre indirettamente, io credo che ci debba essere una sinergia tra la squadra e la stampa, l'ho già detto tante volte, per me la simbiosi squadra tifosi e ci metto anche la stampa, perché comunque secondo me, poi non sto dicendo che non si può dare il proprio giudizio, attenzione, lungi da me, però secondo me bisogna essere costruttivi, io credo che degli attacchi diretti non facciano bene i ragazzi, siccome sono i miei ragazzi nessuno me li deve toccare, io quando sono con loro e il mio lavoro analizzo, ci confrontiamo e lavoriamo duramente per cercare di migliorarci perché nessuno di loro vuole fare errori, poi gli errori nel calcio capitano, ma io ragiono sempre a livello collettivo sulla fase difendente, quindi secondo me così, ho letto delle cose un po' troppo dure, però detto questo ci sono delle cose, come ti ho detto, che devono essere fatte meglio, questo sì, però ho visto tante cose fatte bene, è chiaro che adesso la parola d'ordine è archiviare, ma abbiamo già archiviato assolutamente tanti giorni fa e pensare al presente che ci dice Manto, quindi è un'altra parola importante, continuità, quindi bisogna dare una continuità di prestazione, prima di tutto perché i risultati vengono solo attraverso una grande prestazione, quindi i ragazzi hanno lavorato bene questa settimana, si sono impegnati come sempre, abbiamo cercato di migliorare come ti dicevo le cose, anche le cose che facciamo bene di perfezionarle e le cose che dobbiamo far meglio ci abbiamo lavorato. Sarà una partita come tutte quelle del nostro campionato, insidiosa, loro sono una squadra che viene da un progetto tecnico con Sanzini, che è un allenatore che ha dimostrato grandi idee, molto preparato, dove le sue squadre già l'anno scorso hanno stravinto il campionato di Serie C, giocando un gran calcio e questo gli va dato atto, sono veramente bravi a muover per la palla, hanno un'identità ben precisa e quindi dobbiamo essere molto attenti, concentrati nella fase di non possesso, nello stesso tempo dobbiamo attaccarli dove secondo me e secondo noi, quindi con i ragazzi, possiamo fargli male. Per me la partita che conta di più e quella più importante è quella che dobbiamo affrontare e quindi la più importante è Mantua, quindi tutto il gruppo squadra, tutta la rosa concentrati solamente per fare, ripeto, prima di tutto una grande prestazione domani e cercare di portare a casa un risultato prestigioso. Poi so benissimo che devo affrontare il turno in questa settimanale e poi una partita in casa con Brescia, però ripeto, le mie scelte sono solo in funzione di questa partita, come sempre, come hai detto giustamente tu e poi ogni domenica il riscontro è quello che è importante chi inizia la partita, poi è importante chi subentra perché poi l'ho già detto tante volte e lo ripeto, forse magari ancora in una maniera più chiara, per me i giocatori non sono tutti uguali, nel senso che ognuno di loro ha per vissuto, per esperienza, per carta d'identità, non sono tutti uguali, però poi c'è un aspetto importante che li mette tutti sullo stesso piano, il campo. Il campo è il giudice supremo, quindi per me, compreso i portieri, sono tutti giocatori in discussione tutti i giorni dove vige una sana competizione tra di loro perché sono un gruppo spettacolare, sanno benissimo come la penso, c'è il campo che mi deve dare delle risposte e come sempre faccio scelte prettamente tecniche per il bene della Sampdoria. Punto. Non c'è nessun altro tipo di motivo, il mio metodo è questo qui, loro lo sanno, non siete tutti uguali ma poi quando entrate in campo bisogna suonare, chi suona gioca, per quelle che sono le mie valutazioni, chi ritengo che è meglio che parta dopo, parte dopo, ma sono solo scelte tecniche per il bene della Sampdoria. Il portiere lo tratto come un giocatore di movimento perché oggi comunque il ruolo del portiere che per me deve sempre parare, io sono, secondo me l'anatore deve aggiornarsi tutti gli anni perché il calcio cambia e va avanti, però secondo me il calcio poi ha dei principi molto semplici, io rimango antico un pochettino nell'essere moderno, passami questo termine, il portiere per me prima tu devi parare, il difensore deve difendere e l'attaccante deve essere bravo là dentro a trovarsi il gol. Poi ci mettiamo dentro tutto quello che vuoi, quindi il portiere lo tratto come tutti i giocatori di movimento e quindi come ti ho detto sono tutti i giocatori, tutti i giorni, tutte le partite, tutti noi siamo in discussione e poi quindi detto questo anche lì faccio le mie scelte in serenità sempre per il bene della Sampdoria. Gli ho parlato, sicuramente Marco è consapevole che deve ritrovare la condizione top, parliamo di un portiere che ha fatto la Serie A con continuità e l'ha fatta a grandi livelli e sicuramente anche lui è in discussione nel senso con se stesso, lo sa benissimo, un uomo serio, un grande professionista, sa benissimo che le sue performance devono salire, però ripeto, ritorno al discorso, non mi piace però poi mettere in croce i singoli, io non la vedo così, io parlo sempre, per me i problemi si risolvono sempre col collettivo, con la squadra, quindi sia nella fase di, è come quando diciamo le punte non fanno gol, a livello generale non le nostre, le nostre ne hanno fatte ne faranno, però dico, sì ho capito, bisogna vedere quanta assistenza facciamo alle punte, che palloni gli portiamo, quindi la difesa non difende, bisogna vedere la collettività della fase difendente, per me questo è importante, poi è chiaro che gli interpreti negli ultimi metri sono i difensori, se scappo o non scappo è evidente che nel secondo gol c'è un errore di una palla aperta che bisogna scappare, entro sullo specifico, ma lo sanno benissimo, sono principi che alleniamo tutti i giorni, ecco e lì poi subentra il discorso della concentrazione, quanto riguarda Romagnoli rientra assolutamente a disposizione, Veroli ha dei problemi purtroppo che si porta dietro da tanto tempo, quindi credo che non lo so se riuscirà a recuperare, Romagnoli, Romagnoli sì. Pedrola è assolutamente, intanto lo vedo molto bene, perché già glielo ho detto, i giocatori di grande talento, qua in squadra ne abbiamo tanti, chiaro che lui è un talentuoso, è un giocatore che ha caratteristiche un po' diverse dal resto degli attaccanti che ho a disposizione, perché è un giocatore di estro, è un giocatore di dribbling e io gli ho detto che prima di tutto il suo talento lo deve mettere a disposizione sempre della squadra, non deve essere fine a se stesso, questo principalmente per una sua crescita personale come calciatore, perché lui ha un bagaglio tecnico che gli può consentire di diventare veramente un top player, però lo deve accompagnare l'intensità, lui deve viaggiare a velocità molto più alte e allora diventerà sicuramente un giocatore che può fare la differenza. È chiaro che in un contesto tattico è un giocatore da incastrare bene, perché a giocare dentro il traffico a spalle girate non è il suo habitat, ne abbiamo già parlato, lui è un ragazzo molto intelligente che si sa riconoscere e chiaramente un po' più aperto dove vede soprattutto il suo mondo è il centro-sinistra sicuramente, è il suo habitat tattico più adeguato, quindi io sono dell'idea che poi, ripeto, questa fa parte del mio lavoro, sono le mie scelte, però è chiaro che mi piace mettere i giocatori poi nelle condizioni di performare bene e al massimo, no? Quindi rendergli più, rendergli la performance più consona a quelle che sono le proprie caratteristiche. La gummina ha avuto un problema, ha un problema muscolare non grave, fortunatamente, però credo che insomma, non so se ce la farà, anzi quasi sicuramente non sarà della partita, perché quando si tratta di muscoli bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti, una piccola distorsione alla caviglia, una botta alla schiena, insomma si gestisce, ma quando si parla di muscoli bisogna stare attenti. Ritorno lì, cioè voglio dire, io faccio scelte per quello che è il meglio che mi serve per la partita, poi 23 giocatori, non l'ho scritta io la regola, cioè 23 ne posso fare, non c'è preclusione per nessuno, non c'è preclusione per nessuno, faccio scelte, ripeto, per quello che mi serve per la partita, poi 23 giocatori non l'ho scritta io la regola, 23 ne posso portare, quindi domenica c'erano 5 punte, posso portare 19 punte, 5 punte per quelle che ritengo più consone per quella partita, quindi sicuramente non c'è nessun problema di nessun tipo. Ma è chiaro che nelle 3 partite assolutamente ci sarà da distribuire le forze, ci sarà da andare dentro, ci sarà da essere pronti, poi quello che conta, gli dico sempre, perché poi si possono fare, e io gli dico sempre questo, poi noi siamo quelli del fare, perché se diciamo, 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 ok, però poi bisogna fare, quindi la risposta più bella per esempio è Giordano che io nelle prime partite non l'ho convocato e lui grazie al gruppo, grazie all'identità forte che sta prendendo questo gruppo, l'anima forte che sta prendendo questo gruppo e la deve alzare ancora di più, un gruppo straordinario di ottimi calciatori ma soprattutto di grandi uomini, Giordano per fare un esempio come tanti altri, non sono abituato a fare tanti nomi a livello individuale, però per esempio Giordano è l'esempio che poi dopo non convocato reagisce in una maniera spettacolare mettendosi a lavorare sodo, cercando, perché chiaramente gli ho parlato, io ho parlato con tutti i miei calciatori e ci parlo tutti i giorni, si mette a fare quello che io gli richiedo e poi dopo in un momento difficile, in una partita complicata, lui entra e si fa trovare pronto, questa è la risposta che bisogna dare all'allenatore, il resto sono tutte chiacchiere che possiamo fare, si fanno però poi conta quello, io sono molto contento di questo e per me questa è l'essenza dell'identità della squadra. Grazie 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 Grazie